Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere le potenzialità della blockchain di RIF e del suo token e quali obiettivi si sono posti i suoi sviluppatori e quale necessità e problematiche andranno ad ottimizzare e a risolvere all'interno della blockchain. Prima di iniziare vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciarmi un like che è importantissimo per essere indicizzato su YouTube e di commentare questo video, inoltre di ogni vera nostra community Telegram. Siamo sul sito ufficiale raggiungibile all'indirizzo RIF.finance e andiamo a vedere che cos'è questa blockchain, questo token e cosa vuole fare all'interno del mercato delle criptovalute. Diversamente da molte cripto, da molti progetti che tendono a sostituirsi a progetti magari più vecchi e già esistenti, vi faccio un esempio veloce. Solana, una delle ultime blockchain che ho trattato, viene anche definita Ethereum killer perché il suo obiettivo, oltre a farsi strada nelle criptovalute nel mondo della blockchain, è andare a sostituirsi a Ethereum. RIF non vuole tutto questo, ma anzi vuole portare un valore aggiunto tramite la sua blockchain, vuole essere una sorta di motore di ricerca, una sorta di aggregatore che permetterà agli utenti in un unico portale, in un'unica ricerca, di poter spostare i propri fondi tramite la DeFi, ad esempio su Uniswap e la DeFi, ad esempio Kraken o Binance, quindi da un unico portale noi utenti riusciremo a gestire i nostri fondi utilizzando appunto solo un portale, ma potendo diversificare sia sulla finanza centralizzata sia sulla finanza decentralizzata. Al suo interno si creerà anche un exchange, un yield farming, accessibile ad ogni livello di conoscenza di utente, quindi mira anche a essere molto semplice, pulito e accessibile a qualsiasi utente. RIF ha già ottenuto diversi investitori, diversi finanziatori, questo vuol dire che quando un progetto ha degli investitori importanti, merita la nostra attenzione. Uno dei problemi che vuole risolvere, anzi il principale, è per quanto riguarda la liquidità, che ben sappiamo che molte volte può scarseggiare nel settore DeFi, quindi nella finanza decentralizzata. Al contempo vuole risolvere un problema della SeFi, quindi della finanza centralizzata come Binance o Kraken, ovvero la possibilità di essere sotto attacco hacker, quindi riuscendo a dare liquidità alla DeFi e una protezione per quanto riguarda la SeFi, va a risolvere due problematiche non da poco. Il terzo problema che vuole risolvere per quanto riguarda lo yield farming, ovvero lo yield farming non è accessibile a tutto, non perché ci vogliono dei fondi elevati, ma perché molte volte è complicato per chi si avvicina a questo settore per la prima volta poter operare su uno yield farming, sullo swap, sul farming. Con la sua blockchain cercherà di renderlo più semplice possibile. Andiamo per un attimo a vedere il suo token, ovvero il token RIF, che attualmente è al 134esimo posto per capitalizzazione sul CoinMarketCap, con un rifornimento circolante pari al 56% della total supply, ovvero quasi 12 miliardi di RIF in circolazione, per una total supply che sarà attorno ai 20 miliardi. Il token RIF è acquistabile su Wob e su Binance. Il token RIF ha diverse funzioni, la principale è un token utility utile alla governance, quindi permette agli utenti, ai loro investitori, ai detentori, agli holder, chiamiamoli un po' come vogliamo, di RIF, di poter partecipare alle votazioni degli sviluppatori, dove gli sviluppatori mettono in campo le loro idee, ma la community va poi a votare quella che secondo loro è migliore rispetto a un'altra per poter potenziare il progetto. Funziona un po' come il gas di Ethereum, ovvero RIF viene anche utilizzato per pagare le fee dei protocolli all'interno della sua blockchain. Verrà utilizzato nello staking sulla sua blockchain, ovvero mettendo in staking il token RIF se ne riceveranno in percentuale variabili annuali una porzione sempre di RIF stesso. In più verrà utilizzato per pagare le reward per lo yield farming. Essere parte della blockchain di Polkadot adotta diversi vantaggi, prima di tutto è sicura come blockchain, quindi anche RIF appoggiandosi su questo ecosistema è una blockchain molto sicura. In più può sfruttare l'interpolarità di Polkadot tra diversi blockchain per riuscire ad avere il suo risultato di aggregatore di blockchain DeFi e SFI. Quando il market, il trading market di RIF sarà operativo attraverso la sua piattaforma, noi utenti vedremo diversi tipi di token appartenenti a diversi exchange, a diversi decks grazie proprio all'interpolabilità che viene utilizzata su Polkadot. Andiamo un attimo a vedere la sua roadmap. Siamo praticamente verso la fine di questa roadmap, dove vediamo la possibilità di creare un'applicazione, un RIF bridge che permette appunto il collegamento tramite diverse velocità, come abbiamo visto, gli NFT è un goal molto importante e ottenere anche la carta di debito di RIF. Quindi andatevi a vedere la roadmap, perché adesso vi ho elencato due o tre punti salienti di questo quadrimestre che stanno ancora sviluppando, ma veramente hanno una roadmap con diversi obiettivi ambiziosi ed è una roadmap in continuo evoluzione, in continuo aggiornamento. Andando sempre su RIF.finance in alto a destra abbiamo app RIF Finance. Clicchiamo col tasto sinistro del mouse, andiamo a connettere il nostro wallet, in questo caso mi prende in automatico Metamask, a seconda di come vi collegherete, ovvero tramite Metamask su Rete Ethereum o tramite Metamask su Rete Binance Smart Chain, vedrete nella home page tutti i vostri movimenti, tutti i vostri capitali, le vostre transazioni all'interno di quella rete. Andiamo a vedere la liquidity pool, anche se in realtà su RIF viene chiamata al momento RIF Bonds. Cliccando su RIF Bonds a sinistra, noi possiamo andare a mettere in staking RIF con un interesse variabile del 32% e un blocco minimo di almeno 6 mesi. Quindi noi andando a depositare RIF andremo a ottenere sul nostro deposito un interesse variabile del 32%, ma i nostri RIF resteranno bloccati per almeno 6 mesi. Questo per quanto riguarda la rete Ethereum. Se noi andiamo a fare lo swap della rete, quindi andiamo a connetterci sempre tramite Metamask, ma stavolta sulla Binance Smart Chain, vediamo se cambia qualcosa. Andiamo di nome su Bond e vediamo che ci sono delle altre voci. Che cosa vogliono dire? Vuol dire che utilizzando la Binance Smart Chain noi possiamo depositare RIF e ottenere LIT bloccando i nostri RIF per 14 giorni, possiamo depositare LIT e ottenere RIF o semplicemente depositando RIF otteniamo RIF come percentuale variabile del 27%. La differenza è che non abbiamo un vincolo di 6 mesi, ma possiamo avere un vincolo di 14 giorni, 14 giorni un'ora, oppure 5 mesi, 27 giorni e un'ora. Quindi sono dei blocchi flessibili. Andando sulla voce carta RIF andiamo a vedere alcune indicazioni su quello che sarà la carta di debito Visa di RIF. Già se mantiene questo tipo di colorazione, secondo me è fantastica, e permetterà di spendere 60 milioni, in 60 milioni di negozi, il token RIF e altre criptovalute. Permetterà un cashback dell'8% e avrà zero commissioni. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento, spero sia stato di vostro gradimento. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad unire la nostra community Telegram, ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di condividere i miei video per aiutarmi a farmi conoscere sul web. Grazie a tutti, ciao!